Che cos'è? Non lo so, dai apriamola Guarda, ce ne sono due Sì Una per te e una per me Da dove salta fu Guarda, ce ne sono due Che facciamo? Non ti vergogni Te li sei mangiati tutti Non è vero Ah no? Guarda qua Oh no? Un'altra pagine di quelli è här I can't pass! Grazie a tutti. Grazie a tutti.